International News, gli eventi internazionali raccontati dalle prime pagine dei più importanti giornali del mondo. Buongiorno e benvenuti a International News del 5 maggio 2021. Iniziamo con le sconvolgenti notizie che ci arrivano dalla Colombia e delle quali si parla molto poco o non abbastanza nei media europei. 31 persone uccise dal 28 aprile fino a ieri, che era martedì 4 maggio. Il Movimento Sociale Congresso dei Popoli, dal suo account e Twitter, ha riferito sulla veglia tenutasi nella città di Bogotà per denunciare la brutalità della polizia nel paese, che finora ha lasciato 1.443 casi di violenza compiuti proprio dalla polizia. Secondo la piattaforma Grita, che in italiano significa urla, dalle 6 ora locale del 28 aprile alle 8 ora locale del 4 maggio 2021, ci sono 216 vittime di violenza fisica da parte della polizia, 31 persone uccise, 10 vittime di violenza sessuale compiuta da poliziotti, 814 arresti arbitrari, 21 vittime di aggressioni agli occhi e 77 casi di spari. Il portavoce nazionale del Congresso dei Popoli, Jimmy Moreno, si è rivolto al popolo colombiano dal suo account Twitter, dichiarando siamo la resistenza perché la dignità si esprime per le strade e le strade sono contro questo governo criminale e corrotto di Ivan Duque, al quale chiediamo le sue immediate dimissioni. Il movimento sociale Grita insiste sul fatto che la disoccupazione nazionale richiede il superamento delle crisi mediche, educative, abitative, occupazionali, alimentari, dei trasporti, dei femminicidi. In Colombia rifiuta pratiche sociali genocide contro il movimento sociale, omicidio, minaccia e persecuzione da parte dello Stato colombiano ormai da decenni. E mentre stiamo registrando questa puntata di International News è uscito un comunicato nella pagina Facebook di Intersezionale che passo a leggervi. Che il mondo sappia che in Colombia ci stanno uccidendo. È importante aggiornarvi su quello che sta succedendo ai nostri compagni e compagne in Colombia. Il governo Duque sta reprimendo le proteste sociali, massacrando chi si oppone al governo, assassinando decine di persone. Lo sciopero in corso è contro l'intenzione del governo di Ivan Duque di realizzare una riforma fiscale che cerca di scaricare il peso della crisi sulle classi popolari per tappare il buco lasciato dalla corruzione e dalla pandemia nelle casse dello Stato. Il popolo colombiano ha deciso di prolungare lo sciopero civico in una protesta che continua contro la riforma fiscale e la riforma sanitaria, contro altre misure antisociali e contro l'impunità garantita dalle autorità colombiane per chi assassina leader sociali e firmatari della pace. Alla protesta pacifica e massiccia il presidente Ivan Duque risponde con la massima repressione. Degna di un regime fascista. Ci sono dozzine di morti nel paese con la violenza di Stato particolarmente violenta a Cali. Quello che ci sta indignando è il silenzio di tutti i paesi europei che stanno cercando di minimizzare o invisibilizzare quello che sta succedendo al popolo colombiano. Intersezionale riporta anche un'immagine con diversi dati che passo a leggervi. 1.443 casi di violenza delle forze dell'ordine 216 vittime di violenza fisica da parte delle forze dell'ordine 31 vittime di violenza omicida da parte delle forze dell'ordine 814 detenzioni arbitrarie contro i manifestanti 239 cariche violente da parte delle forze dell'ordine 21 feriti agli occhi 77 casi di spari da armi da fuoco da parte delle forze dell'ordine 10 vittime di violenza sessuale da parte delle forze pubbliche Chiediamo alla Commissione europea di attivare la clausola democratica e dei diritti umani dell'Accordo di Libero Commercio UE-Colombia sospendendo parzialmente o totalmente la sua applicazione fino a quando non finirà l'impunità degli assassini Le elezioni regionali di Madrid erano considerate estremamente importanti anche a livello nazionale Il Partito Popolare, principale partito di centrodestra oggi all'opposizione nel Parlamento nazionale ha stravinto ottenendo 65 seggi più del doppio dei 30 che aveva nella legislatura uscente Il PP potrebbe raggiungere la maggioranza alleandosi con VOX partito neofranchista di estrema destra che ha ottenuto 13 seggi Le elezioni sono state un mezzo disastro per il Partito Socialista che ha ottenuto il peggior risultato della sua storia nella comunità di Madrid e per Ciudadanos che con il 3,49% dei voti non è riuscito a superare la soglia richiesta per entrare in Parlamento Nella notte tra martedì e mercoledì Pablo Iglesias, leader del partito di sinistra spagnolo Unidas Podemos ha annunciato che lascerà tutti i suoi incarichi istituzionali e la politica dopo l'insoddisfacente risultato ottenuto alle elezioni della comunità autonoma di Madrid avvenute martedì Iglesias è da anni uno dei politici più importanti e influenti in Spagna e il suo partito che cofondò nel 2014 proprio a Madrid è attualmente al governo con i socialisti del primo ministro Pedro Sánchez In campagna elettorale Iglesias aveva lasciato la vicepresidenza del governo per candidarsi a presidente della comunità autonoma di Madrid e rivitalizzare la sezione regionale del partito che era molto in sofferenza ma la mossa non ha dato i risultati sperati Unidas Podemos ha ottenuto solo 10 seggi nel Parlamento locale pari al 7,21% dei voti tre in più rispetto alle elezioni del 2019 ma molti di meno rispetto ai 27 del 2015 quindi troppo pochi per le aspettative del partito Dopo la diffusione dei risultati Iglesias ha detto Lascio tutti i miei incarichi Lascio la politica intesa come politica di partito e istituzionale Continuerò a impegnarmi per il mio paese ma non sarò un ostacolo per il rinnovamento della leadership che deve iniziare nella nostra forza politica Iglesias ha detto di credere di essere diventato una specie di capro spiatorio che alimenta i sentimenti più scuri e contrari alla democrazia Il vaccino anti-covid della cinese Sinovac sul quale l'Agenzia Europea del Farmaco EMA ha annunciato l'avvio della procedura di revisione clinica è un vaccino convenzionale che utilizza il virus intero inattivo né più né meno di quello che facciamo tutti gli anni contro l'influenza E in questo meccanismo c'è un potenziale vantaggio già descritto su alcuni lavori scientifici che riguarda una possibile marcia in più nei confronti delle mutazioni alle quali SARS-CoV-2, come tutti i virus, va incontro Lo ha evidenziato Roberto Cauda direttore dell'Unità Operativa di Malattie Infettive del Policlinico Gemelli di Roma intervenendo ad Agora su Rai 3 L'esperto ricorda che la proteina Spike l'uncino usato dal coronavirus pandemico per attaccare le cellule Versaglio è il componente privilegiato di fatto utilizzato nella stragrande maggioranza dei vaccini anti-Covid finora sviluppati Se Spike va incontro a mutazioni che pure oggi non sono così importanti nel ridurre l'efficacia dei vaccini attualmente disponibili usando un vaccino intero come appunto quello cinese non hai solo una risposta dell'organismo verso Spike ma anche verso altri componenti del virus quindi ciò potrebbe, ma il condizionale è d'obbligo e va sottolineato, puntualizza l'infettivologo dare una protezione maggiore Quanto all'efficacia del prodotto cinese che per esempio in Cile è stata stimata al 54% dopo la seconda dose Cauda fa notare che un vaccino viene ritenuto efficace dall'organizzazione mondiale della sanità se supera il 50% di efficacia anche se poi bisogna sempre metterci d'accordo sul significato di efficacia e protezione due concetti lievemente diversi Aggiunge che questo vaccino è stato utilizzato anche in altri paesi con risultati superiori rispetto a quelli indicati in Cile L'esperto del Gemelli invita ad affidarsi a Lema Lema è un organismo internazionale indipendente di grandissima autorità e durante la Rolling Review vedrà quelli che sono tutti i dati in modo da decidere in base alle evidenze Sintonia piena tra USA e Regno Unito sui messaggi da indirizzare a Cina Russia e Corea del Nord nel vertice dei ministri degli esteri del G7 di Londra Di Cina abbiamo parlato ha detto Raab concordando sulle necessità di fronteggiarla in difesa dei nostri valori sul dossier come quello di Hong Kong o degli Uiguri ma anche di dialogare costruttivamente su questioni come il cambiamento climatico Quanto alla Russia Blinken ha evidenziato il comune incrollabile sostegno all'integrità territoriale dell'Ucraina e la condivisione dell'impegno a mantenere l'unità transatlantica in seno alla NATO come bastione contro qualunque minaccia diretta Mentre sulla Corea del Nord il segretario di Stato ha ribadito l'offerta della mano tesa della diplomazia ma a patto che la prospettiva sia quella della denuclearizzazione dell'intera penisola coreana Non è mancato neppure un accenno alle tensioni post-Brexit in Irlanda del Nord con l'assicurazione di Blinken del sostegno inequivoco del presidente Joe Biden come di altri presidenti prima di lui a un Alster britannico prospero, sicuro e in cui tutte le comunità abbiano voce oltre che dell'accordo di pace del Venerdì Santo storica conquista da proteggere Intanto è notizia di oggi che nella delegazione indiana al G7 di Londra vi sono stati due casi risultati positivi al coronavirus Lo apprende Sky News spiegando che la delegazione si è auto-isolata dopo il risultato dei test E per finire un po' di gossip Allora Bill e Melinda Gates hanno annunciato la fine del loro matrimonio con un comunicato congiunto pubblicato sui social Dopo molte riflessioni e molto lavoro sulla nostra relazione abbiamo deciso di porre fine al nostro matrimonio si legge nella nota pubblicata su Twitter Negli ultimi 27 anni abbiamo cresciuto tre bambini incredibili e costruito una fondazione che lavora in tutto il mondo per consentire a tutte le persone di condurre una vita sana e produttiva Abbiamo continuato a condividere la convinzione in quella missione e continueremo a lavorare insieme alla fondazione ma non crediamo ma non crediamo più di poter crescere insieme come coppia in questa fase della nostra vita Chiediamo spazio e privacy per la nostra famiglia mentre iniziamo a navigare in questa nuova vita Il divorzio si prospetta come il più costoso dopo quello tra Jeff Bezos e la moglie Mackenzie del 2019 Con un patrimonio di 130 miliardi di dollari i Gates sono al quarto posto nella lista dei più ricchi al mondo dopo Bezos Elon Musk e Bernard Arnold L'accordo di divorzio tra il fondatore di Amazon e la moglie ha lasciato a Bezos il 75% delle azioni comuni della società che allora avevano un valore di 144 miliardi di dollari e lasciato alla moglie il restante 25% per un valore di 35,8 miliardi A quanto riportano i media americani Bill e Melinda avrebbero già fatto una divisione dei beni dal momento che la richiesta di divorzio cita un contratto di separazione consensuale che i due hanno già firmato L'enorme patrimonio della coppia comprende residenze in 5 stati americani un parco macchine tra le quali spicca una Porsche da collezione valore 2 milioni di dollari una collezione d'arte che comprende il codice Hammer il manoscritto di Leonardo da Vinci valore 30 milioni di dollari una serie di aerei privati inoltre Gates è anche il più grande proprietario privato di terreni agricoli 242.000 acri disseminati in 18 differenti stati come è noto i Gates hanno annunciato che alla loro morte daranno in beneficenza gran parte dei loro beni i tre figli dovrebbero ereditare solo 10 milioni di dollari ciascuno una frazione dell'immensa fortuna dei genitori la residenza principale della famiglia è una magione nota come Shanadu 2.0 davanti al lago Washington a pochi chilometri dal centro di Seattle dove si trova anche la sede della Gates Foundation Gates ha acquistato il terreno nel 1988 per 2 milioni ed ha impiegato 7 anni a ricostruire la casa dei suoi sogni per un costo di 63 milioni di dollari ora ne vale 125 e questo è tutto per oggi io vi ringrazio dell'ascolto e vi aspetto alla prossima puntata di International News di Radiopolis un caro saluto da Maria Martínez International News gli eventi internazionali raccontati dalle prime pagine dei più importanti giornali del mondo